Cambio di guardia alla Digos, promosso Vincenzo Frontera, arriva Maria Malandrino. Il vicepresidente della Polizia di Stato, Maria Antoinetta Malandrino, assume l'incarico del dirigente della Digos, della questore di Siracusa, sostituendo Vincenzo Frontera, che per tanti anni ha diretto l'ufficio ed ora è stato promosso primo dirigente della Polizia di Stato e al termine del previsto corso di alta formazione sarà destinato ad altro incarico fuori regione. La dottoressa Malandrino da oltre 30 anni in Polizia, da 20, ha diretto commissariati di pubblica sicurezza in territori difficili come Pachino, Avola, Noto e Modica, dove ha condotto numerose operazioni di Polizia giudiziaria finalizzate al contrasto di gravi reati come la prostituzione, l'associazione delinquere finalizzata allo spaccio, le estorsioni e reati contro soggetti più deboli, quali bambini e donne. Quest'ultimo aspetto dell'attività investigativa della dottoressa Malandrino ha consentito la stessa di sviluppare una particolare sensibilità verso le problematiche della violenza alle donne, campo in cui si è spesa molto anche con un'attiva opera di prevenzione. Il dottore Vincenzo Frontera è stato promosso primo dirigente della Polizia di Stato da oltre 38 anni di attività in Polizia, ha diretto il commissariato di Pachino, di Augusta, l'ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico delle volanti. Poi ha svolto il ruolo del dirigente della sezione Falchi per tre anni con un'attività di contrasto alla micro criminalità non comune da 13 anni, ha diretto la DIGOS. Tra le più importanti operazioni quelle di Uomini e Caporali 1 e Uomini e Caporali 2, quella più delicata che riguardava il contrasto all'immigrazione clandestina, l'attività del dottore Frontera si è occupata dei centri islamici, di tifoseria, soprattutto del territorio, del contatto con la pubblica amministrazione, con il mondo del calcio, del lavoro, il mondo sindacale, poi tutta la vicenda legata alla gestione dell'ordine pubblico nella fase della mediazione, aspetto fondamentale dell'attività. In primis l'avvertenza dei Forconi, considerando che il leader era una persona di Avola, la DIGOS di Siracusa ha avuto un ruolo importantissimo in quella gestione. Tutta la situazione che ha gestito bene il dottor Frontera. Rimango legato alla città dei siracusani, il mio personale è stato prezioso perché mi ha sempre collaborato in maniera leale, onesta, abbiamo fatto tante, tante cose. Siamo sempre stati con i miei Uomini in prima linea su tutte le problematiche dove c'era necessità di fare mediazione importante. Lascio una parte di vita in questa provincia a cui sono molto legato, alla città e ai siracusani. Ho lasciato una parte del mio cuore.